Intervistiamo il direttore sportivo della Fiariccione Giuseppe Terenti. Abbiamo potuto assistere a questa svolta del Fiariccione al 39esimo minuto del gol di Giunchetti. Lei si aspettava una svolta del genere a una parità 2 a 2 comunque di entrambe le squadre? È stata una partita molto combattuta, siamo andati sotto con un episodio di un calcio di rigore nel primo tempo, poi siamo riusciti a ritornare in parità con un bel gol, un gol di pregevole fattura concluso da docente in una maniera migliore e nel secondo tempo quando tutto lasciava pensare a un pareggio 1 a 1 c'è stato il gol in mischia del loro numero 19 penso e poi proprio allo scadere siamo riusciti a riagguantare una partita che sembrava persa, ecco quindi alla fine poteva andare anche peggio di così, siamo contenti del punto preso e andiamo avanti. Perfetto, abbiamo potuto assistere comunque a una partita, abbiamo visto comunque dei giocatori che non erano molto convinti, molte occasioni di palle perse, lanci troppo lunghi, però nonostante questo è stata una bella vittoria, è un bel pareggio, lei che cosa ne pensa? Un commento a riguardo? Sì, è stato un pareggio combattuto, un pareggio combattuto tra due squadre che sono andate in battaglia, ci sono stati un po' troppi errori, non è stata una grandissima partita, però il pareggio secondo me alla fine è il risultato che anche se l'abbiamo raggiunto alla fine rispecchia più l'andamento della gara. Perfetto, la prossima domenica quindi sarete comunque in trasferta, che cosa ne pensa? Abbiamo una trasferta di Diegaro che è una delle prime della classe, quindi una trasferta difficile, cercheremo di andare come sempre su tutti i campi a giocarci le nostre chance. Intervistiamo l'allenatore del classe Giorgi Mirko, praticamente la partita si è appena conclusa e un commento a riguardo, eravamo proprio vicinissimi alla vittoria, che aria si respira negli spogliatoi? Beh, sicuramente prendere il gol a pochi secondi dalla fine fa rimanere un po' la mare in bocca, però analizzando bene la partita, al primo tempo Riccione è stata veramente un'ottima squadra, ma lo sapevamo che è un'ottima squadra che proponeva calcio e ci ha messo in difficoltà grossa, quindi per come è andata la partita penso che il pareggio sia un risultato abbastanza corretto, è chiaro che se prendi, ripeto, gol alla fine tira un po' quello che non si può dire in televisione, però da fastidio. Però dobbiamo ripartire anche da queste prestazioni, da questo modo di affrontare, di stringere i denti per portare a casa anche un punto in campi difficili contro squadre forti come Riccione, insomma. È una sconfitta che brucia molto, perché so comunque sia che Fia Riccione è la sua ex squadra, che cosa ne pensa di questa cosa? No, beh, questo si sa un po' di campanilismo, un po' di gioco dell'ex, però non è neanche questo. Io qui ho lasciato tanti ricordi belli con persone, sia nello stato dirigenziale che alcuni ragazzi che sono rimasti ottimi, quindi non c'era sicuramente la rivalsa. C'era l'opportunità di fare dei punti per la mia squadra, che sa che deve fare un campionato di sofferenza, quindi portare via tre punti al posto di uno in una partita così difficile come questa era importantissimo, però abbiamo avuto dei miglioramenti e questo è quello che ricerchiamo da un po' di tempo. La prossima trasferta di domenica sarà Corticella, vi sentite carichi? Sì, è un'altra partita difficile, perché Corticella è un'altra di quelle che può ambire ai primi posti, è un'ottima squadra, sta giocando bene, mi hanno detto alcuni addetti ai lavori, quindi sarà un'altra partita difficile da interpretare bene, però penso che tutte le partite se vai a giocare a pallone sono difficili. Quindi l'importante è che abbiamo questo spirito e che cerchiamo di fare il massimo. Poi è chiaro che quando l'altro è più bravo e ti hai dato il massimo si può solo dare la mano all'avversario. L'importante, ripeto, è che noi diamo il 110%, quello che ci richiede la nostra società e quello che dobbiamo richiedere a noi stessi, ogni singolo giocatore e noi dello staff.